ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro simpaticissimo episodio dedicato alle vostre collezioni come sempre più spesso accade ci troviamo qui a commentare tutti assieme i video vostri praticamente voi che vi commentate da soli perché voi che siete gli amici del canale partecipate a questa rubrica utilizzando i vostri orologi come tramite per poi esplicare tutta una serie di concetti che vanno anche oltre gli orologi ci piace vedere le vostre passioni alternative ulteriori aggiuntive ci piace vedere come vi ponete all'interno di questo simpatico hobby e anche insomma cosa decidete di fare per il futuro insomma anche io posso prendere spunto dalle vostre idee che poi non sono io che prendo spunto perché c'è sempre qualcuno qua con me sulla spalla che decide per me ma io faccio finta di essere autoritario e di essere io colui che decide cosa fare come un po' tutti noi ora prima di guardare i vostri video vi mostro l'orologio del giorno che anche oggi è questo bellissimo rolex yacht master 40 mm quadrante blu calibro 32 35 sfera dei secondi rossi che è talmente così simpatica da spiccare il volo quasi a me piace l'orologio anche perché al posto è molto luminoso da quel senso di luminosità pregio pregio quasi un gioiello è la ghiera in platino figurati un po diamo il via ai vostri video utilizzando la barra spaziatrice che la barra spaziatrice vostra amica è sempre lì in attesa è come la mano amica è uguale è uguale ciao davide sono loris ho 3 anni e vengo da pesaro volevo mostrarti la mia piccolissima collezione di orologi e certo premetto che tutti gli orologi che andremo a vedere saranno di dimensioni abbastanza contenute per il semplice fatto che nell'ultimo anno avendo perso 49 chili il mio polso è diventato da un 19 e mezzo a un 16 barra 16 e mezzo e cos'è persona gamba 49 chili verso due gambe verso cioè in questo caso quando il dimagrimento si intende dire il polso era come circonferenza è lo spessore che va a cambiare soprattutto perché le ossa sono sempre la larghezza delle ossa è sempre la stessa quindi è proprio la circonferenza nel senso di altezza no quindi a quel punto lì non è che cambia molto la portabilità perché la larghezza del posto è sempre la stessa dall'alto più o meno è sempre quella però se ti dici che ti trovi meglio con quelli contenuti va bene così parto subito con l'orologio del giorno di uno milano by marco bracca che bello numero 22 della serie limitata di 150 pezzi per il noto youtuber ci ho voluto acquistare per le modifiche effettuate da adesso e per il suo design accattivante le modifiche portate sono vetro zaffiro corona vite per le 10 atmosfere di impermeabilità e movimento miota 90 39 sì va bene io comunque questo qua io quando è uscito gli ho subito fatto la critica gigantesca se andate a vedere nei miei shorts ho fatto tre shorts in tutta la mia vita su youtube perché odio gli shorts secondo me sono privi di contenuti uno era su questo orologio qua c'è una una bella macro così ci aveva tutti gli indici fuori centro rispetto al bordino bianco cioè non era solo anche altri che ho visto che avevano fatto le recensioni erano tutti storti la scusa era stata eh sì ma perché è difficile ma se è difficile non farlo c'è chi lo fa che chi lo fa lo fa le fa dritti se è difficile non farlo che sono storti no ora qua il tuo non lo so se è il caso è il secondo orologio amilton khaki field automatico bello non mi dilungo tanto su questo pezzo no conosci già il movimento h10 certo e secondo me è un ottimo orologio è certo che lo è best buy lo c'erano tutti terzo pezzo mido ocean star tribute la versione nera con la lancetta arancione anche il mio orologio preferito poi c'ho anch'io c'ho come chicca l'ultimo orologio acquistato e quale sarà tagoya bravo che è bellino sapere che cosa ne pensi taghera 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 ancora cosa come cosa ne penso e ho sempre detto che l'acquarezzere è uno degli orologi che mi piace di più ora questo qua forse un po meno questo qua è quello da 43 mm se quello con la ghiera color acciaio a me è quello che mi piace di più c'è anche il mio amico piero glielo video ma questo qua non lo so qualche tipo perché la magnifica la lente magnificatrice rotonda esiste cioè anche su 40 secondo me questo qua è 43 mili no hai detto che hai preso quelli più piccoli quindi non lo so che diametro è questo bello 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 però cosa vuoi che ti dico questa è l'interrogazione mi devi dire qualcosa sull'orologio acqua racer otto diamanti ecco c'è diamanti la cosa brutta è quella non mi ero accorto so che la dimensione non è tra le tue preferite ma avendo un polso così minuto al mio polso calza perfettamente ma quant'è non hai detto ora te lo mostro e come ben vedi al mio polso calza perfettamente ma quant'è di millimetri non lo so non ho capito ora seguendo tutti i tuoi video conosco uno dei tuoi orologi in uno dei video più recenti hai detto che quell'orologio non si trovava più ovviamente è vero l'orologio è fuori produzione è quasi impossibile da trovare ma io l'ho trovato ma soprattutto l'ho trovato nuovo e con un ottimo prezzo volevo aprirlo con te ma cos'è sì però tu vabbè tanto velocizzo eh sicuramente avrai già capito di che cosa si tratta dalla scatola ma io l'ho adorato la mia scimmietta ha cominciato ad avere fame dal momento che io te l'ho visto la prima volta aveva sempre 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 ancora più fame a questo punto dopo una lunghissima ricerca e cos'è 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 l'ho acquistato ma qual è per tagliare il formaggio vabbè 65 bronze oh eh sì è bello è il mio ce l'ho anch'io simpatico secondo me è uno degli orologi più belli esteticamente che hai e ora che ho anche io bravo volevo farti tanti auguri per il canale e augurarti una buona giornata grazie finito qua il video è entusiasmante come video diciamo va bene dai cosa vuoi che ti dico i begli orologi hai trovato a parte il D1 a Milano c'è il Tagoyer Aquarese un bel set te lo meriti anche soprattutto per questo l'ultimo acchiappone qua dell'Oris Diver 65 acciaio e bronzo che l'hai trovato praticamente NOS è come averlo trovato NOS perché fuori produzione hai trovato anche l'amico Giacomo ne ha recuperati alcuni ultimamente poi ora man mano che si va avanti sempre meno ce ne sono però bisogna trovare anche la persona a cui piace questo tipo di orologio l'acciaio e bronzo fatto così perché insomma quel venditore lì non si è nella vista media di levarsi quel peso di vendere quell'orologio lì che nessuno voleva perché alla fine è così a noi piace un tipo di orologio un modello al 99% delle persone non piace e l'orologio rimane lì devi trovare anche il compratore giusto al momento giusto per l'orologio perché non siamo tutti uguali comunque dai belli orologi bella collezione chiaramente io ho tagliato tutte le parti del tuo unboxing perché è durato dei minuti inutili che insomma si potevano anche evitare però hai fatto il tuo dovere te hai fatto il video io penso poi a fare i cut a renderlo fruibile al pubblico detto questo ho detto tutto mi sembra di aver detto tutto quindi passiamo al prossimo video ciao davide sono Leonardo dalla provincia di Napoli Napoli e vorrei mostrarti un aggiornamento della mia collezione dopo il video che ti ho inviato inizio anno bravo mostro adesso questo Timex GMT con movimento svizzero simpatico che diciamo si ispira molto ovviamente al Rolex GMT Master eh sì con il quadrante e la ghiera in questa colorazione devo dire un orologio comunque che ha delle buone finiture ovviamente il bracciale non è nulla di che ma qualcuno può anche dare un po' fastidio al polso in quanto tenta strappare un po' i peli è un orologino simpatico simpatico sì ma c'è anche la versione automatica di questo ti hai preso quello al quarzo per risparmiare sicuramente perché tanto è un orologino che va e che viene che non è un punto fondante della collezione di un appassionato diciamo la verità è uno sfizzetto quindi ti hai preso quello al quarzo per toglierti lo sfizzetto però sappiate che esiste anche la versione automatica e magari anche con un po' più di personalità senza avere la ghiera bigolore in questo modo qua come si suol dire poi voglio mostrarti un orologio e utilizzare diciamo un chofeca alert in modo costruttivo mostrandoti questo a disdive che ho comprato per utilizzarlo al lavoro in modo di non avere diciamo alcuna paura di graffiarlo rovinarlo e quant'altro dal prezzo diciamo ampiamente sotto i 100 euro e vorrei diciamo appunto parlare di questo orologio comunque fare delle considerazioni sulla qualità costruttiva di questo orologio in quanto presenta un bracciale con maglie piene molto ben fatto meno male una logata fondello chiuso un bracciale ben fatto appunto con una clasp bella resistente e diciamo la critica che volevo muovere è verso diciamo alcuni marchi che comunque ci propongono orologi a 250 300 400 euro queste fasce di prezzo qua a salire ma che presentano ancora dei finali vuoti che si piegano si rovinano facilmente clasp ancora con il lamierino eh sì corona alcuni ancora con corona non lo logato oppure alcuni modelli di siti e zine ancora con maglie ripiegate nonostante diciamo i numerosi aumenti di listino che ci sono stati in questi anni quello che diciamo dico io si potrebbe investire un po' in questi piccoli accorgimenti sui bracciali certo questa è la piccola diciamo critica considerata eh si potrebbe sì non c'è nulla da dire cioè le cose possono sempre essere fatte meglio soprattutto per le case quelle lì diciamo blasonate tra virgolette come possono essere Timex Bulova Citizen Seiko 5 insomma quei livelli di case lì così entry level che però sono marchi conosciuti eh sì se potrebbero fare tranquillamente meglio le cose su questo non ci sono dubbi che i prezzi degli orologi aumentano non ci sono dubbi che questi orologini qua della Disdive pagani magari sono anche fatti bene quello sì lo butti per le mani sono fatti bene diciamo lo dicono tutti che sono fatti bene quindi il problema della qualità non sussiste se vi piacciono quegli orologi lì con questi marchi quanti sono anti Adis Dive Steel Dive Pagani Design Canadisen Corgeux che sono tutti della stessa razza fanno tutti parte della stessa tipologia di azienda cioè quella che sforna orologi da catalogo mettendo pezzi insieme più spesso delle volte facendo copie quella lì è l'identità di Adis Dive se poi ti interessa bene io quando voglio comparare un orologio penso anche al marchio penso all'azienda che mi vende l'orologio cioè io dico cosa vorrei in collezione a parte quando capita la scintilla volante così della scimmietta che dice quello io lo voglio se no parto dal punto cosa mi piacerebbe ci vorrebbe uno Zenith in collezione io lo so a me ci vorrebbe uno Zenith in collezione io voglio uno Zenith quindi incomincio a cercare magari il marchio Zenith cosa mi offre vari orologi usati nuovi cosa c'è cosa non c'è partirò mai dall'idea di voglio una Disdive in collezione no non mi piace l'azienda non mi piace come lavora non mi piace come si comporta col marketing in generale quindi non lo voglio una Disdive in collezione cioè è un marchio che non mi interessa quindi possono fare anche gli orologi fatti bene di qualità col vetro zaffero con tutto quello che ti pare a te ma non mi interessa non lo voglio in collezione non lo ritengo un marchio corretto da avere nella mia collezione tutto è personale mia collezione poi voi dovete scegliere con la vostra testa ti piacciono gli Adisdive fate una collezione piena di Adisdive magari design Cadizien e la soddisfazione personale tua è la nostra soddisfazione siamo tutti contenti capito però a me non mi convincono quindi io non li voglio e si possono sconsigliare sconsiglio perché sono fatti sono fatti bene sì ma perché devi avere quello prendilo se sei un neofita lo prendi la prima volta ti sbagli come uno prende un Armani o come prende un'altra cioffecata ok ti avvicini poi dopo quando capisci a un certo punto ti si accende la lampadina e dici ma devo stare a collezionare tutti questi orologini qua da 80 100 euro Adisdive Cadizien che sono tutte la stessa roba e fanno orologi in serie copie degli altri a un certo punto bisogna anche svoltarla no però contento te contenti tutti lezione che volevo muovere poi passiamo a questo diver questo combat sub bello questo glissin 39 mm un orologio diver 300 metri ma molto sottile certo e devo dire che veste molto bene me o comunque persone che hanno un polso da 15 cm praticamente come il mio mamma vero mi sento di consigliarlo perché veste molto bene molto leggero certo e con questo quadrante blu indici bianchi bello bello sto qua fa la sua figura poco più di 500 euro in fila voglio mostrarti il mio sacco di ral che quest'anno ho deciso di mettere in collezione eccolo qua questo è il primo pranomaster original nella versione a tre contatori con questa colorazione diciamo ironica questo movimento questo lo vorrei anche io che tutti diciamo appassionati conosciamo e diciamo l'unica l'unico difetto che ho riscontrato secondo il mio punto di vista a questo orologio è un po' questo diciamo questo bracciale cosa c'è un bracciale in particolar modo una clasp che si ispira chiaramente a a rolex e soprattutto un orologio che viene venduto comunque a un bel prezzo di listino un minimo di ingegnerizzazione qui alla clasp invece di presentare questi fori un po' brutti da vedere sì però ciò non mi ha fatto desistere e l'ho messo in collezione hai fatto bene grazie Davide per grazie a te lo spazio concesso che concedi a noi appassionati e ti saluto alla prossima alla prossima love 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 ecco fatto stavo parlando appunto dello Zenit che ci vuole in collezione anche a me mi ci vorrebbe lo Zenit è il primero di questo tipo qua però il 38 mm al momento non mi soddisfa preferirei un 40 se esistesse mai quindi attendo perché tanto ci sono altre cose su cui puntare sì il discorso dei forellini lì è vero come è capitato anche sul mio Speedmaster che c'è i forellini poi dopo l'hanno modificato con quelle nuove con la chiusura ingegnerizzata ma non sono quelle cose che mi possono impedire di comprare quell'orologio lì a me proprio no anche se c'è i forellini che poi a volte mi è capitato anche con amici di parlare guardare i forellini è anche un pochino diciamo romantico tra virgolette c'è anche il suo perché guardare però giustamente con quello che costa una bella claspe ingegnerizzata anzi dovrebbe essere anche autolubrificante e atomica una claspe di questo tipo qua è vero però sono quelle cose come avevano fatto lo Zenit il primo A384 che aveva l'interno del bracciale in acciaio sottile ma sì ci sono queste cose qua queste cadute ma credo che ogni orologio abbia dei punti deboli poi a volere sfrucugnare sfrucugnare io li trovo sempre qualche punto debole ma mai nessun punto debole poi dipende dalla tua soglia ognuno deve decidere se quel punto debole può essere accettato ed acquistarlo se te l'hai acquistato vuol dire che l'hai acquistato perché altrimenti attendevi quando io c'era lo Speedmaster con il calibro 1861 e tutto intorno c'erano i calibri coassiali e io dicevo no lo Speedmaster così non lo compro non gli spendo quei soldi per un calibro che non è al pari dei suoi amici che ha in collezione certificato Metas e tutto e infatti dopo poco è uscito quello Metas e io ho preso quello per me era uno scalino insormontabile per l'acquisto mentre altre volte ci sono scalini che li salto a pie pari che non mi interessa i forellini oppure l'antiriflesso oppure la maglia lucida la corona non ha vita li salto magari perché quello orologio lo voglio mi piace mi interessa dipende ognuno ha le proprie soglie detto questo ti do un 8 alla collezione che non te lo meriteresti perché c'hai tre orologi messi in cruce tra cui uno è un Addis Dive che sarebbe proprio da martellare lì per lì l'altro è un Timex al quarzo ti do 8 perché il Glissin quando poi uno dice è un orologio di qualità a 600 euro perché quello costa è il Glissin il Combat Sub è veramente non plus ultra è l'Elozenite il primo un 8 te lo do sono di manica larga oggi diciamo la verità dai prossimo video ciao Davide sono Davide ti faccio questo video per farti vedere la mia collezione di orologi bravo oggi è arrivato l'ennesimo bambino come diceva il sacerdote tra l'altro ce l'ho al polso eccolo il Glissin Combat Sub avevo comprato prima il Glissin 42 GMT GMT e ho visto poi la tua recensione sul 39 non sono riuscito a non comprare anche questo è bello per l'amore del cielo regolargli le maglie perché adesso è un po' largo è certo dunque venendo a noi devo farti vedere tutti i orologi che forse anzi sicuramente conosci già Kamasu va bene ci sta Orient Kamasu rosso bello rosso e bello dai te l'appoggio gli ho montato il parciale Jubilee o Aftermarket spero di dire bene le cose non sono super esperto questo te lo faccio vedere dopo sì passiamo agli Hamilton oh Hamilton cacchina viscuba gli ho cambiato il cinturino perché inizialmente l'avevo preso in acciaio adesso gli ho messo questo che crea diciamo qualcosa di un po' particolare nel senso che Hamilton non lo non lo vende così nel senso che il blu è un pochino diverso rispetto il blu del braccialo è un po' diverso rispetto al quadrante però mi garba molto ma c'è sempre di Hamilton so che anche tu sei un po' fissato come me per gli orologi diciamo di stampo militare ma fissato no Hamilton Kaki King Kaki King la data con il numero e il giorno è una complicazione che mi piace molto questa è una delle mie ultime prese Mido Multifor tv big date tv big date mi piace molto come cambia la data mi piace molto la sua forma anche a questo inizialmente l'avevo comprato con il bracciale in acciaio per poi virare su un bracciale in cauciù questo è come credo lo preveda anche la casa cioè blu su blu il quadrante è veramente bello dà dei colori belli questo orologio qua io prima prima di recensirlo appena è uscito l'ho snobbato proprio anzi appena è uscito nemmeno è uscito al pubblico io l'ho visto in anteprima qualche mese prima proprio di fronte ai rappresentanti della casa gli ho detto ma no ma non si può bocciato poi una volta che ho fatto la recensione mesi dopo ho cambiato completamente idea tanto più che ho fatto la recensione del big date quello dedicato alla tv quello con il monoscopio oh benvenuta la parola mi veniva stetoscopio con il monoscopio sul quadrante colorato che è proprio totalmente fuori dalle mie canoni colorato col cinturino giallo mi è piaciuto tantissimo lo sarei tenuto volentieri promosso completamente poi c'ho questo l'avrai già visto in miliardi di volte quindi non mi dilungo su di lui ci piace tanto anche a noi citizen suiosa il colore che mi piaceva tantissimo quando l'ho comprato come piaceva a tutti adesso farei fatica a metterlo è passato meno di un anno dal mio acquisto ecco qua tutti quelli che c'è stato un periodo che sto tiffani questo azzurrino qua così andava per la maggiore e tutti dietro a me non mi ha mai detto nulla cioè un colore come un altro io i quadrati colorati fatico fatico non chiedetemi perché il rosso ci arrivo il verde ci arrivo rosso verde anche se blu perfetto mio preferito nero grigio bianco insomma no sono abbastanza monotono e banale però quando è uscito il tiffani qua tutti i modelli tutti gli orologi tutte le marche un quadrantino tiffani azzurrino celeste acqua marina acqua di fava e tutti l'hanno fatto e tutti voi dietro molto stufato questo testimonia come i miei gusti cambino spero che cambino ancora così magari posso rimetterlo aspetta spero tisso tisso le locle le locle molto bellino molto bellino uno dei miei primi acquisti in realtà quando mi sono fissato con gli orologi mi piace molto la trama nido d'ape e i numeri romani all'inizio mi piacevano tantissimo poi ho avuto un disinnamoramento forte adesso mi piacciono ancora ci sta ci sta dai anche a me non è che ok questo è il mio primo orologio il mio primo acquisto ancora prima di fissarmi nel senso che non l'ho poi utilizzato usavo solo questo a un certo punto non mi ero ancora fissato con gli orologi però già all'epoca ero andato su un tissu testimonianza del fatto che diciamo già avevo un'idea di che cosa mi piacesse è la zeccata come lì il viso dete che è un modello è un evergreen tra l'altro è con letta 28-24 questo qua quindi l'hai preso abbastanza in danno il tempo si vede è quasi meglio questo che il elocle che è un po' troppo classico per i miei gusti un po' troppo formale bello anche quello per l'amor del cielo però sto qua è leggermente più sportiva sportivaccio concludo con gli altri due glycine altri due dopo avervi fatto vedere questo che era il glycine combat da 39 questo è il mio glycine Ironman de Schiff mi piace molto l'ho preso originariamente con il cinturino in pelle non so se tenerlo così o metterli su un cinturino aftermarket ne ho visti alcuni di molto belli bracciali milano eccetera so che tu consigli nato di solito per questo orologio a me i cinturini nato piacciono sì e no quindi accetto consigli magari su questo guarda i cinturini nato piacciono sì e no è lo stesso discorso tuo che è il cambiare i gusti che le cambiamo tutti i gusti a me agli inizi i cinturini nato proprio non li sopportavo non li sopportavo proprio secondo me rendevano cheap l'orologio ok lo rendevano cheap un bel orologio col bracciale in acciaio prendiamo un omega col bracciale in acciaio bello lì mi sa di prestigioso no col cinturino nato mi sembra una scamorza ok a quel tempo adesso ho cambiato adesso lo speedmaster lo indosso con il nato siamo arrivati a questi punti logico che io lo faccio passare single pass cioè una volta perché almeno non mi si alza sul pulso no però si cambia te cinturino nato sì no prova prova a sforzarti se no lì ci starebbe bene anche un cinturino verde militare ma di quelli fatti artigiani dell'amico John Kustrap ti fai fare quelli che fa lui in tela in tela verde con l'ardiglione quello bello quadrato grosso spigoloso secondo me ci sta e poi il glycine da 42 che ti avevo già detto questo GMT l'abbiamo visto prima sono ancora indeciso se mi piace di più il 42 o questo 39 che è arrivato oggi non devi far le gare sul mio polso che comunque è non piccolo questo questo da 42 sta molto bene poi c'è la complicazione del del GMT che è sempre un valore aggiunto volevo farti vedere sicuramente ne hai sentito parlare non ho visto sul tuo canale foibos mi chiedo scusa se non l'ho ancora visto appunto foibos bello bello foibos sono sono entusiasta di questo orologio soprattutto nel momento in cui si si illumina si illumina e il gioco che fa con gli undici dai dai insomma le lancette eccetera è veramente bello sembra un altro orologio e mi fa mi fa godere diciamo così so che il movimento non è un granché il costo è contenuto che c'è quindi insomma sono contento meno male di averlo preso niente spero che sarai soddisfatto comunque spero che apprezzerai il fatto che molti degli orologi che mi piacciono adesso all'inizio non mi piacevano e che vedendo un po' di cose sul tuo canale credo di aver imparato un po' di robe ciao 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 fai fatica a mettere insieme due termini velocemente proprio prendi le pause per cioè il criceto deve muovere tutto e dire va bene comunque abbiamo capito per il resto i tuoi orologi sono più che validi sto perdendo l'auricolare sono più che validi niente non ce n'è uno non ce n'è uno che per me non vale quello che costi te lo dico chiaramente per me 7 e mezzo della tua collezione hai Hamilton Mido Glissintry Tissot 2 Citizen Foibos Foibos hai detto che c'è il calibro che non è un gran che ma non mi ricordo che calibro ha ma mi sembra che ha l'NH35 dentro quindi NH35 niente di che è decente va benissimo se è quello non mi ricordo se poi montano il bicembiota 9000 ancora meglio però credo l'NH35 non è che ti devi lamentare sul discorso dei gusti si cambiano si cambiano ed è il bello è riuscire ad assecondare il cambiamento di gusti cioè ti rendi conto che stai cambiando e non devi forzare lo stop non devi stopparlo non devi dire no però io ho sempre detto che quelli blu non mi piacciono quindi adesso devo rimanere coerente con quello che ho detto no se non ti piacevano blu adesso ti iniziano a piacere blu asseconda il flow cioè segui la coerenza è assecondare i tuoi cambiamenti non è rimanere fermo su quello che dicevi prima per il principio di rimanere fermo no no ragazzi easy 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 nella vita va bene dai prossimo video ultimo l'ultimo è il prossimo è l'ultimo ciao Davide sono Marco da Modugno in provincia di Bari bravo inizio a mostrarti la mia collezione con questo pezzo vintage è un playboy dal cassetto dei ricordi di mio padre quindi fine anni 70 inizio anni 80 bravo ho fatto un video con qualche interferenza perché con me c'è mio figlio di 9 mesi ma anche lui deve imparare congratulazione la passione per gli orologi lui deve imparare la passione per gli orologi e tu dovresti imparare a fare video in orizzontale perché me lo fai in verticale come se fossimo su quella ciofeca di tiktok qua siamo su youtube orizzontali ci vogliono 16 noni playboy quindi il babbo la sapeva a lunga lì probabilmente era amico di Rocco Sifredi questo è appunto un crono di non facilissima lettura perché gli indici sono in oro e con la luce ma passavanti non è leggibilissimo basta il cinturino è quello dell'epoca ma non mi puoi fare la recensione di sta ciofeca c'è un po' di ossidazione qui però lo lascio così perché appunto trattandosi di un pezzo vintage non mi va di cambiare il cinturino e di rinturarlo è da buttare via passiamo adesso a un Citizen Pro Master questa è una collezione che si chiama Unite with Blue il fondale marino è rappresentato appunto nel quadrante che ha questi colori bellissimi che con la luce del sole si esaltano grande adesso passiamo ad un molto banale e semplice Mission to the Moon un moon's watch spendi i soldi lì l'ho preso e me lo tengo è la legge del manga andiamo avanti con un bellissimo Beaume Mercier Riviera cinturino in caucciù promosso questo molto leggero indossarlo davvero è molto bello perché è leggero non lo senti non dà fastidio al polso sta molto bene quello lì te lo promuovo quello lì andiamo avanti tisso PRX per l'uso quotidiano questo è un powermatic 80 ma sì con il quadrante verde mi piace molto perché con la luce il quadrante dà dei riflessi diversi e quindi sembra cambiare colore sì andiamo avanti squale 15-20 ghiera in ceramica vetro bombato mi piace molto la lavorazione perché non si sente nessuna nessun gradino diciamo così fra il vetro e la ghiera la lavorazione è fatta davvero molto bene il vetro a filo con la ghiera si dice eccoci al mio pezzo preferito che è un GMT Master 2 un Coke top un regalo di mio padre di quando ho fatto 20 anni ovviamente la colorazione rosso nera deriva solo dal fatto che io sia tifoso milanista quindi a lui è piaciuta appunto questa colorazione senza andare ad immaginare che fosse una serie limitata per l'epoca stiamo parlando del 2007 credo molto bello ci sono affezionato efficiente bellissimo simpatico questo davvero mi piace bello bello rollo e poi finisco la mia collezione con un pezzo di emozione carrabbata panerai radio mir 40 c'è solo la complicazione della lunetta dei secondi la lavorazione della cassa che era strema è molto fine molto bella l'ho comprato per festeggiare la nascita del mio secondo genito il figlio maschio per un giorno di poterlo tramandare a lui eh bravo bene ti ringrazio ti saluto e ti ringrazio anche perché ci mostri con i tuoi video un modo diverso di condividere questa bella passione che ci accomuna ciao Davide ci divertiamo con poco noi ragazzi noi ci divertiamo con poco meglio orologi sì diciamo di sì a parte all'inizio mi hai fatto temere per il peggio perché quando ho visto l'orologio di Playboy proprio eh poi è bello che sei stato anche a spiegarmi tutte le cosine come funziona come non funziona e il cinturino no perché ma cosa perdi tempo passa avanti mi l'hai fatto vedere ci siamo divertiti ma non perdiamo tempo su quella roba lì poi c'hai tanti orologini classicini no Citizen Eccordrive il PRX della Tissu e lo squale bello sai per arrivare poi a quelle bellissime a quelle bellissime punte di diamante punte di diamante che sono il GMT di Rolex e il Panerai da 40 mm strano ora mi viene voglia di prenderlo anche da 40 mm il Radiomir da 40 mm mi piace adesso e comincia a piacermi ci starà bene amici ci starà bene sul impulso il 40 mm di Radiomir ho paura che sia addirittura piccolo per me cioè per essere un Panerai in 40 mm senza senza anse così con le anse fisse sarà piccolo non ho mai provato 40 mm però quant'è di impermeabilità 40 mm non lo so nemmeno insomma io sto arrivando al punto di pensare che il Panerai per me è quello 90 15 915 915 se non mi sbaglio quello con 300 metri piccoli secondi a ore 9 quello lì o simile a quello lì vabbè vedremo dai comunque il voto te l'ho dato si te l'ho dato no te l'ho dato è un 7 dai è un 7 è che è un voto bilanciato no ne troppo ne troppo tanto ne troppo poco ne troppo poco poco tanto capito tutto il succo del discorso mi sto anche impappinando perché evidentemente è chiaro che è giunto il momento di lasciarci quando uno si impappina significa che ha bisogno di andare a sfogliare Instagram e guardare i gattini che fanno i video no perché sono proprio loro che fanno i video e non è che glieli fanno sono loro che si riprendono da soli sono i selfie i gatti conquisterano il mondo oh boh detto questo io vi ringrazio per essere arrivati fino a qua chiaramente e non mi resta quindi che ricordarvi gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube love e non mi resta